Questa storia non deve essere raccontata ai bambini, anzi questa storia non deve essere raccontata a nessuno, contiene dei pessimi insegnamenti, deve essere dimenticata, per questo i libri dove si trova scritta devono essere distrutti, bruciati. Ma i libri non si devono bruciare, si devono leggere, farli conoscere. Silenzio! Non ne deve restare nessuna traccia, qui si fa come dico io. E tu, chi sei? Tic-tac, 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 tic-tac. E tanto tempo fa mi hanno chiesto perché vuoi fare il torero? Sei troppo giovane! E io ho risposto, e che importa se sono giovane? Mi hanno detto, è troppo pericoloso. O tu uccidi il toro, o lui uccide te. Ebbene, eccomi qua, sono il più grande torero del mondo. Nessun toro ce l'ha mai fatta con me. Ferdinando, vieni a combattere con noi! Ferdinando, su, vieni a zuccare con noi! Non startene sempre lì nascosto, dietro ai tuoi fiori. Ferdinando è un codardo, Ferdinando è un codardo! Mi ascolta Calabro, devi trovarmi il toro più feroce, il toro più forte, il toro più... il più grande, sto organizzando la mia ultima corrida. Aiaiai, Ferdinando! Se solo tu ti chiamassi Armando o Rolando o Gerundio... Aiaiai, Ferdinando! Ah, dalla pace della tua quercia alla plaza del toro... Aiaiai, 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 Ferdinando! Aiaiai, 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 aiaiai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.